Mi trovo a Taranto, dinnanzi a quel che resta, a quel che era il centro per l'impiego, per capirci l'ex collocamento di Taranto. Da lunghissimo tempo, mesi, mesi e mesi, questa struttura è chiusa. Ci furono ragioni di carenza di condizioni igienico-sanitarie per le quali la struttura fu chiusa. L'amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci si dichiarò pronta a mettere a disposizione delle strutture, nulla di tutto questo, solo annunci. La cosa grave è che coloro i quali devono adempiere ai vari obblighi, presentarsi, firmare e quant'altro, parliamo di gente senza lavoro, parliamo di cassi integrati, parliamo di persone con una precarissima condizione lavorativa, occupazionale, si vedono costretti a dover andare nei centri per l'impiego della provincia, quindi a Martina e al Truv. Loro tarantini non possono venire a Taranto perché a Taranto è chiuso. Ora, la cosa grave, signori cari, è che l'amministrazione comunale ha fatto soltanto annunci. Ho appreso questa mattina, nel corso dei lavori della Commissione Consiliare, che il Comune di Taranto avrebbe messo a disposizione degli immobili delle strutture comunali presenti in via Orazio Flacco e in via Veneto. Per la verità ci sarebbe stata anche la disponibilità annunciata dell'ex scuola dei Amici, però con lavori da fare, ristrutturazioni e quindi tempi lunghissimi. Mi domando, gli ex lavoratori, i lavoratori precari si chiedono quando mai queste strutture saranno effettivamente disponibili, cioè quando effettivamente potranno andare a svolgere, ad adempiere ai propri obblighi qui a Taranto, e invece non andare a sbattere chissà dove nella provincia, sostenendo delle spese per andare nei comuni della provincia. Questa gente non lavora, questa gente non ha un becco di un quattrino in tasca e si deve pure sobbarcare le spese di benzina o di bus o quant'altro, o farsi accompagnare da qualcuno per andare ad adempiere a un obbligo che il capoluogo Taranto non ha. E allora, signori cari, per cortesia, datevi una bella bella mossa, e per quanto riguarda il centro per l'impiego, e per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Non si può perdere tempo e non si può costringere questa gente, sottoporre questa gente ad ulteriori sacrifici morali e, in questo caso, anche economici. Facciamolo per chi davvero è in difficoltà.